Tre punti per provare ad uscire dallo stallo e quanto scaturito dall'Assemblea dei Lavoratori tenutasi presso il presidio permanente della Treofan che ha visto la partecipazione di esponenti di vario livello della CGL, CISL e UIL e del sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese. Le organizzazioni sindacali e di lavoratori hanno chiesto alla direzione aziendale di provvedere nell'immediato al ripristino degli approvvigionamenti e consentire la ripresa delle attività lavorative. A ciò si sono aggiunti tre punti chiave, definizione in tempi rapidi di un incontro presso il MISE, realizzazione di un coordinamento di tutte le RSU, istituzione presso il comune di Battipaglia di un tavolo di crisi sulla vertenza Treofan.